dopo i nativi digitali ecco i felini digitali questi simpatici gattini si lasciano ipnotizzare da un gioco per tablet proprio come se fossero due bambini la calcia al topolino è serratissima ma purtroppo per loro la preda non è di carne e ossa e gli artigli sferrano colpi solo al malcapitato schermo del computer portatile